Buongiorno signor Baciglieri, ho portato la vostra bomboletta, dove le devo spogliare? Se non fare una cosa, se non diremo bene, mi si picca ma c'è no. No, e va bo, e ma c'è no, non soggiuni, e se no che sta a fare dopo. Ma bene, mi si picca, buongiorno, buongiorno.